L'ambiente al centro del dibattito politico toscano. La nave rigastificatrice Golar Tundra di Snam è in porto a Piombino. Può trasformare 5 miliardi di metri cubi di metano all'anno. Entrerà in funzione a maggio. In Consiglio regionale la discussione ruota intorno alle misure compensative attese dal territorio. Dobbiamo concordare con quelle che sono le opere complementari al posizionamento della nave a Piombino. Quello che può accelerare, quella che è una volontà già espressa dal governo, di diminuzione delle bollette per i cittadini e per le imprese, forse è bene partire da subito. Quindi, come la competenza è del governo, siccome comunque non è stata ancora predisposta l'intesa fra regione e governo su queste opere complementari, io direi di far andare avanti una corsia di accelerazione da parte del Consiglio regionale con una mozione che non può che essere un atto di indirizzo perché poi è il governo che stabilisce questa diminuzione. Però mi piacerebbe che da parte delle autorità di governo la previsione di un taglio delle bollette che si riferisca ai cittadini e alle imprese del territorio possa essere prevista il prima possibile, anche prima dell'intesa su tutte le varie opere complementari, le bonifiche, le energie rinnovabili, il sostegno al parco della Val di Cornia, il sostegno a quello che è la realizzazione della strada che possa far andare direttamente al porto dalla strada statale 398. Io credo che l'atteggiamento che il Presidente della Giunta regionale ha avuto su questo tema sia sempre stato estremamente chiaro e coerente. Da una parte ravvisando la necessità di un intervento che va a rispondere ad una serie di esigenze che non possono essere sottaciute per i nostri territori, ma dall'altra parte con la volontà di mediare quanto più possibile per recepire le istanze dei territori. Quanto dichiarato dal Presidente della Giunta va in questa direzione e io sono convinto che anche grazie alla sua capacità di mediazione si potranno traguardare dei risultati importanti anche su questo tema. Quelle che Eugenio Gianni chiama compensazioni sono delle misure che spetterebbero di diritto a questa porzione della costa che è stata bistrattata e penalizzata per tanti anni. Quindi a distanza appunto di tutto questo tempo sentir dire che quelle compensazioni sono qualcosa che viene dato in cambio dell'accettazione della nave rigassificatrice, per cui appunto un piano di sicurezza ancora noi non abbiamo potuto vedere, credo che sia molto grave e soprattutto sia ingannevole nei confronti delle persone. E questo non lo possiamo accettare. L'ho sempre fatto e non cambio idea né in virtù dei governi nazionali né in virtù di quello che accade. Ho sempre sposato la posizione del Sindaco Ferrari, continuo a sposarla. Il Sindaco Ferrari è determinato ad andare avanti nella sua istanza che non è la sua ma è quella della comunità che rappresenta perché il Sindaco Ferrari è alla testa di tutta una città intera che non ha capito e non ha sposato questo progetto. Quindi io spero vivamente che il Sindaco Ferrari ottenga un risultato e che mi dispiace soltanto che il pronunciamento del Tribunale arriverà se tutto va bene dopo che il rigassificatore sarà messo in funzione. Quindi ci sarebbe un'accensione del rigassificatore e poi sembra uno spegnimento. Questa è una stortura tutta italiana. Ma spero vivamente che il Sindaco Ferrari porta a casa il risultato. Nella sala del gonfalone del Palazzo del Pegaso ha avuto luogo la quarta edizione del premio Ivano Tognarini, un riconoscimento per onorarne la memoria, l'opera scientifica e l'impegno civile. Il premio, promosso dall'Istituto Storico Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea, è rivolto a tesi di dottorato in storia contemporanea. Presidente dell'Istituto dal 2000 fino alla morte nel marzo 2014, docente di storia moderna all'Università degli Studi di Siena, Ivano Tognarini si occupò anche intensamente di storia del Novecento. Attento alle esigenze della società civile, dedicò sempre grande cura nell'attività di ricerca e divulgazione delle conoscenze storiche, rivolgendo una specifica attenzione ai giovani. Il premio è andato ex equa a Federico del Giudice e Simone Renato Muraca. Nel sottolinearne l'importanza, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, ha ringraziato l'Istituto Storico e i familiari di Tognarini. La mia presenza oggi è un modo per dire grazie all'Istituto Storico della Resistenza, per dire grazie alla famiglia Tognarini per quello che ogni giorno viene portato avanti. La Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte, è una terra di diritti, è una terra di accoglienza, è una terra che è sempre stata dalla parte giusta della storia. La Toscana è terra di formazione, è terra di ricerca. Le cose si tengono insieme in questo premio e io sono felice che anche il Consiglio regionale abbia fatto la propria parte. Federico del Giudice, assegnista di ricerca alla Scuola Normale e Superiore di Pisa, si è giudicato il riconoscimento per diritti altrove, lavoratori italiani e protezione sociale in Francia e Argentina tra le due guerre mondiali. La mia ricerca è fondamentalmente una comparazione tra Francia e Argentina, che furono nel periodo tra le due guerre le principali destinazioni dell'emigrazione italiana. Ho studiato appunto queste emigrazioni per vedere come i due paesi integrarono gli stranieri all'interno dei sistemi di protezione sociale che stavano mettendo in campo in quegli anni. Quindi ho provato a vedere non solo quali furono le relazioni diplomatiche, l'intervento anche di forze sindacali per il loro inserimento in questi sistemi di protezione sociale, ma anche come loro agirono per rivendicare dei diritti che si stavano facendo mano a mano in quel periodo. Simone Renato Muraca ha ricevuto il riconoscimento per istituzioni, pratiche e agenti della diplomazia culturale fascista in Spagna e Portogallo, 1936-1945. Sono sicuramente molto contento, è un premio che riconosce il lavoro fatto durante il percorso del dottorato, quindi è sempre bello vedere il proprio lavoro riconosciuto, è stato figlio di sforzi e grandi soddisfazioni sicuramente. Sì, mi sono occupato di studiare la diplomazia culturale italiana in epoca fascista, studiando questo caso comparativo tra Spagna e Portogallo negli anni delle guerre italiane, dalla guerra di Etiopia alla fine della seconda guerra mondiale. Un premio per far sì che i giovani riescano a pubblicare i loro lavori, un premio in memoria di Ivano Tognarini, che ha dedicato tanta parte del suo impegno ai giovani e alla divulgazione storica. È stata costituita una commissione di docenti universitari, una commissione mista, composta da alcuni esponenti del nostro istituto e da docenti di chiara fama di altri atenei. Hanno fatto un lavoro di esami delle diverse, delle decine di tesi che sono state presentate e poi la commissione ha elaborato un verdetto, in questo caso di ex eco, sulla base di motivazioni scientifiche e di valutazione dell'originalità dei lavori. Presentata la decima edizione della Tuscany Crossing, gara podistica che si svolge tra i suggestivi paesaggi della Val d'Orcia. Si correrà dal 21 al 22 aprile in una non-stop dal crepuscolo del 21 all'alba del 22. La manifestazione è divenuta parte integrante del territorio e si è evoluta, proponendo non solo una corsa per podisti specialisti di lunghi e impegnativi percorsi, ma anche tracciate accorciati e camminate per diverse tipologie di appassionati del genere. Un'iniziativa di rilievo per il Consiglio regionale. Sì, un'iniziativa che è importante per il Consiglio regionale della Toscana che abbiamo voluto sostenere, promuovere e valorizzare perché dentro un'iniziativa di carattere ludico ci sta un'iniziativa di carattere culturale, di relazione fra uomo e paesaggio e soprattutto la Val d'Orcia che torna a essere baricentrica in un contesto non soltanto regionale, nazionale e internazionale e a viaggiare, passeggiare, camminare, correre dentro i sentieri della Val d'Orcia denotano una relazione fra uomo e natura straordinaria. Questo consente la scoperta del territorio, consente il rispetto del territorio e nello stesso tempo consente la valorizzazione del territorio. Quindi era un'iniziativa che volevamo promuovere e quindi siamo orgogliosi di poterla lanciare come iniziativa anche dalla Toscana per promuoverla e sostenerla. La Toscani Crossing è un grande evento sportivo con atleti che arrivano da tutto il mondo. La Val d'Orcia è un sito unesco, patrimonio dell'umanità, paesaggio culturale, icona della regione toscana. Tutti quelli che in questi anni sono venuti hanno lasciato e testimoniato un ricordo straordinario di questa esperienza che indubbiamente è faticosa però è così gratificante e piacevole correre in un territorio come quello della Val d'Orcia. La Val d'Orcia è uno dei sette siti patrimonio dell'umanità. Noi in questo periodo abbiamo davvero tantissime presenze turistiche e tutte le strutture al completo. La gara è nata dieci anni fa da un'idea di un circuito americano che proponeva gare di 100 km nei parchi patrimonio unesco. Quindi abbiamo detto perché no farla nella Val d'Orcia patrimonio unesco dal 2004. E da allora abbiamo iniziato questo percorso. Abbiamo fatto un tracciato di gara pensando proprio all'idea di chi li ha percorsi negli anni indietro, sulla via Francigena, su tante strade, sulle carrarecce che hanno disegnato praticamente i nostri avi, i contadini che hanno vissuto, plasmato la Val d'Orcia. La Toscani Crossing è entrata nelle scuole per parlare con gli studenti dei tanti temi che la gara incarna, per sensibilizzarli e far loro comprendere come un evento sportivo sia in grado di attivare molteplici collaborazioni e interazioni su più fronti, istituzionali, economici e associativi. Approfittiamo appunto del fatto che c'è in concomitanza anche la Toscani Crossing per, abbiamo approfittato anche per portare ai ragazzi nelle scuole gli argomenti legati poi, i problemi legati a questa manifestazione, alla Val d'Orcia, al nostro territorio. Quindi abbiamo parlato di fonti rinnovabili, abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di sostenibilità ambientale e appunto secondo noi è molto importante che i giovani, che i ragazzi si approcciano al nostro territorio che è bellissimo, alle nostre iniziative e a tutto ciò che riguarda anche la nostra cultura. La società calcistica ASD Virtus Santa Maria a Monte ha raggiunto il traguardo dei cento anni dalla fondazione, dal Consiglio regionale una targa per celebrare l'importante traguardo, con una cerimonia nella Sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso. Il presidente dell'Assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, era impegnato a Bruxelles per motivi istituzionali. È stato il vicepresidente Marco Casucci, con a fianco i consiglieri Elena Meini e Giovanni Galli, a consegnare il riconoscimento al presidente dell'Associazione sportiva di lettantistica Santa Maria a Monte, Leonardo Rosi, che era accompagnato dal vicepresidente Marcello Luschi. Non pensavamo di poter essere accorti in una cornice così e di avere dei riconoscimenti. Per noi piccole società di lettantistica è importante. Il lavoro è difficile perché siamo piccoli, pur avendo oltre 300 iscritti fra ragazzi, per questo il nostro scopo fondamentale è quello di cercare di fare il sociale, per fare sport in salute, cercando anche di poi dargli qualcosa di sportivo che se qualcuno ha delle doti particolari si spera di poter, che possa arrivare a livelli buoni. Nella lunga avventura della società calcistica vengono annoverate generazioni di calciatori di lettanti, protagonisti di una passione lunga un secolo. Tra questi qualcuno è poi arrivato anche ai palcoscenici del grande calcio, su tutti il nome di Romano Fogli, campione in campo, poi allenatore di lungo corso. Quest'anno facciamo anche diversi festeggiamenti in onore suo. Romano da cui noi prendiamo spunto, dove la nostra scuola calcio è intitolata a lui, cerchiamo di essere leali, sportivi e di cuore buono, perché Romano è una persona molto disponibile, infatti apprezzato e gli vogliono bene da tutte le parti. Lo sport cosiddetto, che poi in realtà non lo è, cosiddetto minore, è un aspetto determinante per la socializzazione, per far crescere bene i nostri ragazzi, per trasmettere dei valori importanti. È il messaggio che noi andiamo a dare ai giovani, tirarli fuori da casa, tirarli fuori dai computer, ma portarli a fare attività, perché tutto questo poi dopo comporta anche sicuramente una vita migliore, con delle regole migliori. Io dico sempre che gli istruttori sportivi in questo momento sono l'ultimo avamposto per l'educazione dei ragazzi.